Ma come ti buildi? Un sacco di giocatori su League of Legends utilizzano app e i sistemi automatizzati Riot per scegliere rune e oggetti sui campioni che giocano, in modo a non doversi sforzare a cercare quali sono le scelte migliori. Il problema è che spesso le build veramente forti arrivano in ritardo su questi sistemi automatizzati e quindi ti ritrovi a fare delle scelte sul tuo campione che non ti permettono di sfruttare tutto il vantaggio che ti prendi in corsia. Partiamo subito con un campione popolare ed estremamente giocato, Ari. Ormai è un campione spammato sulla corsa centrale, non viene toccata la nerf di alcun genere tipo e continua a rimanere forte, nonostante i vari bilanciamenti degli oggetti. Ma c'è ancora una fissazione per buildare come secondo oggetto un item che ti aiuti a barstare, che sia lo Storm Surge o la Leech Bane, che sono ottime scelte assolutamente, ma non è la build che trova più successo su Ari, soprattutto per i solo Qplayer. Ari ora si builda con il Malignance come primo item, come ormai da molte patch, ma il secondo oggetto ideale è l'Horizon Focus. Questa build, popolarizzata dai pro player, punta a darti la massima quantità di ability haste, in modo da darti più chance di usare la tua suprema e le abilità in maniera costante, dandoti sempre qualcosa da fare e permettendoti quindi di scaricare più danno in totale. Questo secondo oggetto è estremamente sottovalutato, perché con un costo più basso della sua competizione e la quantità di statistiche che ti dà, riesce a premiare meglio il modo di snobollare di Ari, accelerando ulteriormente la sua capacità di vincere la lane e poi impattare la mappa. Più ulti, più spesso, sfruttate la cooldown così che rimarrete sempre fastidiosi per i vostri avversari e continuerete ad accelerare il vostro vantaggio precedentemente guadagnato. La build continua con la Leech, Bane, che comunque rimane un ottimo item, il Rabadon e il Creep Bloom, se potete permettervi di andare full danno, oppure potete aggiungere una Zonia al posto di uno di questi componenti. Le rune sono Electroshock, Impatto Improvviso, Collezionista di Occhi e Cacciatore Supremo, insieme a Triplotonico e Smaterializzatore di Minion. Ricordatevi, Smaterializzatore di Minion su uno a testa per avere Wake Clear rapido su tutte le wave, due Smaterializzatori sui range ed uno sui melee, se volete eliminare in fretta la maggior parte delle wave già in early game e con poco AP. Procediamo con un altro campione che avevamo discusso anche nello scorso, ma come di buildi. Kaisa, che vede una nuova build nascere per mano di LS, lo streamer analyst più amato e odiato dalla community, o ignorato spesso. La build parte da una Muramana, seguita da Ludens, e si completa con il Crypt Bloom come terzo item. Ma come giochi questo bominio? In pratica è tornata la vecchia idea di Kaisa che se ne sta fuori dalla portata del team avversario e ti massacra i W a raffica e appena becca un bersaglio fragile si lancia per scaricare tutto il danno e attivare la passiva. La build continua con Rabadon e Zonia e utilizza i Sorcerer come scarpette. Badate, è una build che richiede un bel po' di testa da giocare correttamente, richiede tempo per scalare, quindi optate per questa scelta se vedete che la partita si può trascinare a lungo o se i campioni avversari sono immobili e fragili. In primis perché devi avere tanti soldi e poi devi avere il tempo per farli fruttare, cosa che non ti viene sempre garantita in solo più con tutto il caos che gira. Le rune sono Pioggia di Lame, Assaggio di Sangue, Collezionista di Occhi e Cacciatore di Tesori, insieme a Mana Flow Band e Trascendenza. Questa build sarà pure strana, ma mai strana come l'idea di Logitech G di sponsorizzare questo video, permettendomi di pubblicizzare le loro periferiche a questa maniera. Ho avuto modo di provare la nuova linea di periferiche Logitech G Pro e di testarle per varie settimane. La tastiera è la Pro X 10KL, il mouse è il Pro X Superlight 2 e le cuffie sono le Pro X 2 Lightspeed. Passando dalla mia tastiera precedente a basso profilo a questa, la prima differenza che ho notato è la reattività con cui si attivano i comandi. Il che mi ha fatto capire quanto spesso sbaglia per me le tasti e prima davo la colpa a bug di gioco. Il Superlight 2 ultraleggero e preciso mi dà un maggiore controllo, rendendomi conscio di quanto mi ero storto e di come la vecchiaia si avvicina. Inoltre, ogni periferica è collegata con il sistema Wireless Lightspeed, che toglie i cavi dalla scrivania. E mi rende partecipe che quando mi alzo per farmi un caffè, i miei amici con cui gioco parlano di quanto sono scarso. Mamma mia, ma quanto è scarso l'opo? Cioè, ma perché continuate a invitarli? Quindi, la linea Logitech G è sicuramente un buon modo per provare l'esperienza di usare periferiche usate da pro player. Ma allo stesso tempo, ti permette di realizzare quanto sei scarso come player. Se vuoi provare questa esperienza, esplora le periferiche Logitech G al link qua sopra. Andiamo avanti. Una build che sta trovando molto successo in solo Q in top lane, ma che viene messa in ombra dalle build full tank, è per Poppy. Lo so, suggerire un tank in solo Q per vincere è un po' un assurdo, ma non è il caso per questa Poppy. Se volete provare qualcosa di strano, il primo oggetto è Eclissi, primo su Poppy, seguito da un Fimbulwinter come secondo item. Il doppio scudo che i controlli e i danni che applichi ti danno, insieme al tuo scudo e la passiva, ti rendono davvero difficile da gestire una volta ottenuto lo spike. Dandoti comunque una buona quantità di danno per combattere contro molti avversari, la stragrande maggioranza dotati di tanti HP. Da qui la build si evolve prendendo Iceborne Gauntlet e Spirit Visage, in modo da darti resistenza a tutto tondo, ulteriori slow e amplificazione degli scudi che hai dagli oggetti e dalla tua passiva. Il setup di runa è molto importante perché prenderai Grasp of the Undying, lo Shield Bash per potenziare i tuoi scudi, il Second Wind e l'Overgrowth per gli HP e la digenerazione in fase corsia. Importantissimi, Chipshot e Cacciatore Ingegnoso, quest'ultimo è fondamentale perché riduce il cooldown dell'Eclissi e del Fimbulwinter, dandoti modo di attivare molteplici scudi per combattimento molto più spesso di quello che gli avversari si aspettano. Un consiglio spassionato se volete giocarla? Bannate Darius, è l'unico campione che vi mette davvero in difficoltà e che non vi lascia a scampo in fase di corsia. Gli altri sono tutti gestibili in un modo o nell'altro e ti danno tempo di arrivare ai tuoi spike, Darius proprio non te lo concede. Non sarebbe un ma come ti buildi senza una build veramente assurda e questa è bella speziata direttamente dalla sua Q coreana e addirittura giocata in competitivo. Azir Bruiser AP. Ok, sembra un po' assurdo, lo so, perché è praticamente un tank, fa ridere. In questa versione Azir usa come setup di rune Grasp of the Undying, Demolish, Second Wind e Overgrowth insieme a Presence of Mind e Alacrità, in modo a potersi curare in fase di corsia, guadagnare HP ogni volta che usi il Grasp e rigenerarsi mana con il Presence of Mind. Questo rende le incomplete molto più affrontabili e ti permette di scalare lentamente verso la fase centrale di partita. Ricordati di colpire con il soldato il campione nemico quando hai il Grasp attivo perché è la base di questa build, se non lo sfrutti è inutile. Il tuo primo oggetto sarà il Lionry che ti permetterà di fare danno sostenuto e fino a qua dici, vabbè, normale, classico per Azir, ci puoi inserirlo senza problemi. Il secondo oggetto varierà in base al tuo avversario di corsia, prendendo Frozen Heart per i matchup da danno fisico e Abyssal Mask in caso di matchup da danno magico. Una volta presi uno o entrambi questi oggetti, se proprio vuoi essere tankoso, andrai a prendere il Rift Maker per darti sustain durante i fight che renderai prolungati perché sarai dannatamente difficile da uccidere. Questa build è per i più coraggiosi e soprattutto per gli aspetti a Azir, quindi giocate a vostro rischio e pericolo. Chiudiamo con un altro midlaner che viene spesso buildato come ai vecchi tempi, ma siamo nel 2024 e bisogna adattarsi. Per quanto la build con la Road of Ages sia ancora quella con il win rate più alto di neanche mezzo punto percentuale, la build che ti permette di impattare più velocemente con Cassadin è quella che dà priorità al Malignance come primo oggetto. Questo viene poi seguito da un Seraphs in Bear Ace, in modo a darti quelle statistiche difensive tanto golose, ma già con questi due spike diventi veramente pericoloso da gestire. Prosegui con Zonya, Rabadon e Krip Bloom per spaccare chiunque ti capiti di fronte. Le rune sono Electroshock, Sudden Impact, Eyeball Collection e Ultimate Hunter, insieme a Parasite of Mind e Colpo di Grazia. Non prenderai HP dai frammenti di rune, ma BT East, HP per livello e HP a livello 1. Questo per quale motivo? Perché i primi livelli di Cassadin rimangono veramente tosti e devi rispettare i tuoi avversari, ma poi ti daranno la tancosità necessaria per sopravvivere nelle fasi più avanzate. Ricordatevi, maxando l'hai per prima e la W per seconda troverete maggiore successo, diventerai quel tipico Cassadin da incubo che nessuno vuole incrociare. Fatemi sapere quale tra queste build andrete a provare e signori e signori, questo è quanto per questo video e noi ci vediamo al prossimo!